Allora, si è stata finita, ci hai pure provato a fare gol? Ci ho provato in quell'occasione, non sapevo che cosa fare, quindi ho improvvisato un'azione personale, non sapevo che cosa, si sono chiusi gli occhi e ho tirato dritto. Poi è riuscito pure il tiro, deviato, ma sfortunatamente la pallona è entrata, va bene pure così, ci sta. Messina sta facendo una grande rincorsa, probabilmente la differenza hanno fatto le motivazioni tra Cosenza e Messina, Cosenza ha pagato Messina che invece cerca punti. Sì, noi stiamo bene, noi abbiamo fame, loro si trovano là in alto già da un bel po' di tempo, noi stiamo facendo questa bella rincorsa che ci sta pagando. Abbiamo trovato finalmente una quadratura, un equilibrio che ci mancava da molto tempo, abbiamo sconfitto la paura che avevamo di vincere, ora infatti i risultati li stiamo notando tutti quanti. Un pari giusto? Diciamo pari, diciamo 70-30, 60-40 così, abbiamo giocato molto meglio noi, però è stata una partita equilibrata, ho giocato a viso aperto, loro giocavano bene sulle nostre ripartenze, noi li andavamo a prendere altri, quindi la partita noi l'abbiamo preparata bene, loro giocavano sui nostri errori, quindi è stata una bella partita per chi l'ha vista. C'è un po' fallosa per un'altra partita? Ci sono stati molti falli, soprattutto io ne ho subiti tantissimi da un brutto cliente che è di Angelis, quindi va bene, ci sta nel calcio, se no non lo faremo questo sport, non è lo sport per noi, diciamo noi calciatori, è uno sport duro e ci sta, soprattutto noi difensori dobbiamo fare sentire i tacchetti agli attaccanti, gli attaccanti non si dobbiamo fare mettere i piedi di sopra. Grazie.